Gibson Les Paul Standard 2019 Meccaniche autobloccanti Grover, tastiera in palissandro, legno in mogano, manico incollato, è un top splendido. I due unbucker sono due burst backer e per l'elettronica è stato ripreso il sistema che avevamo già visto con la serie HP. Ovvero con la possibilità di regolare i deep switch e quindi cambiare le diverse funzioni dei quattro push-pull. Abbiamo quindi una varietà di suoni enorme, perché possiamo scegliere se splittare singolarmente i due unbucker oppure scegliere quale bobina far suonare, se quella interna o quella esterna, è anche la possibilità di scegliere il suono in fase o in controfase. Altra particolarità di questo modello è il capotasto in tectoid, lo chiamano alla Gibson questo materiale, che è una sorta di tipografita, un materiale autolubrificante che non ha bisogno di ulteriori trattamenti.